Neri Neri cogliendoci di sorpresa ma io posso anche provare a cadere allora io questa cosa qua Neri è il vostro cuore protagonista ecco non è solo non è solo non è solo pochi uomini possono farlo al mondo Neri è uno di questi pochi uomini possono farlo al mondo Neri è uno di questi pronti per girare per favore ho aperto il piede la spina che c'è nel piano uyuyuy il codice ragazzi dov'è l'ospedale molto vicino facciamo un'altra dai falla finita e vedi a firmare per la tua quota scendi sei non era male hai fermato in camera? no La vita è una gabbia di leoni e io sono il miglior domatore sulla piazza.